La Befana fascista non dimentica i figli degli italiani all'estero. Presente il ministro d'Italia Franzoni, i bimbi dell'asilo degli orfani italiani a Praga hanno ricevuto numerosi doni, fra le più vive manifestazioni di gratitudine al duce. Viva l'Italia! Viva il reto! Viva il duce! Viva il reto! Viva il reto! Viva il reto! Viva il reto!